Mai più treni da terzo mondo in viaggio nel Parco Nazionale del Cilento a Vallo di Diano e Alburni. Il direttivo, presieduto dal presidente Pellegrino, è pronto a dissidare le ferrovie dello Stato. Non saranno più tollerati treni sporchi e fatiscenti. Non lascia spazio a dubbi la delibera approvata dai consiglieri, indirizzata al ministro delle infrastrutture, alla regione Campania e a Trenitalia. Il parco è pronto a vigilare sulla qualità dei trasporti ferroviari che attraversano il territorio dell'area protetta. I disagi registrati, soprattutto durante il periodo estivo, non saranno più tollerati. Tra le vittime illustri delle ferrovie dello Stato, ricordiamo, anche l'ex governatore della regione Campania Bassolino, in più occasioni, dopo aver viaggiato sui treni per raggiungere il Cilento, ha denunciato lo Stato vergognoso in cui versano i treni che collegano Napoli e Sapre. A dire basta ora il lente parco, il consiglio direttivo ha approvato una delibera per migliorare l'accessibilità nell'area protetta. Nel documento si chiede il miglioramento del servizio ferroviario esistente e il potenziamento dei trasporti su treni, soprattutto nel Vallo di Diano. Abbiamo chiesto con forza, ribadisce il presidente Pellegrino, al ministro delle infrastrutture, alcuni punti che noi riteniamo indispensabili per il nostro territorio, quali lo snudo dell'alta velocità sicignano, il ripristino della tratta sicignano-polla con un treno a spola che tra l'altro avrebbe una finalità di carattere turistico. Nella delibera, oltre a porre l'accento su quella che è la condizione igienica sulla tratta che da Salerno va a Sapri, il parco chiede l'attivazione della freccia d'argento confermata nelle stazioni di Pestum, Agropoli e Vallo della Lucania. All'attenzione del parco, anche il progetto portato avanti dai comuni della rete del Golfo di Policastro riguardante la ferrovia del parco con l'attivazione dell'alta velocità per Sapri. Dobbiamo rendere, ribadisce il presidente Pellegrino, quanto più accessibile raggiungere il nostro territorio ai turisti, ma allo stesso tempo offrire servizi migliori e soprattutto ai cittadini del parco.